Terzo risultato utile e consecutivo per il Bologna che batte 2 a 0 lo Spezia nel primo anticipo della ventesima giornata. I punti in classifica sono 26. Pari Liguri secondo K.O. di fila 18 punti. Portiere in evidenza, Shagroshpi si oppone a Maldini, Dragosti deve impegnarsi, Zuckuschi è due volte su Ferguson, prima di capitalizzare su un destro potente di Porsche sotto la traversa. Trentasettesimo. Shagroshpi evita il pareggio e reca a Guassi. Nella ripresa si vede lo Spezia con un colpo di testa. Amiam troppo centrale. Orsolini si fa ipotenizzare da Dragosti ma poi lo batte col mancino settantasettesimo. Gara in ghiaccio per il rosso-blu. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!